Musica Amici ed amiche di Vivi Castelaneta, ben trovati. Siamo a Weekend Sposi, la rassegna espositiva dedicata interamente ai futuri sposi, organizzata dall'associazione Unicom Art e si sta svolgendo nella splendida cornice del Museo Rodolfo Valentino. Venite con me a vedere cosa propone quest'anno Weekend Sposi. Qual è quest'anno la bomboniera che va per la maggiore tra gli sposi? Si sta vendendo tantissimo il profumatore d'ambiente, quindi è una novità. Non è una novità, però è quello che sta andando ancora di più. Un song and you don't even care. Throw me a lifeline, open the door, pick up my heart that you left on the floor. On the floor, on the floor. Io resterò per ferma finché tu non morrai stare con me. Quali sono le tendenze dell'abito da sposa di quest'anno 2014? Siamo sulle linee semplici, sul ricamato, sul pizzo, sui colori tenui. Quest'anno va tantissimo il rosa, quindi le varie tonalità del rosa, dal rosa all'illa, al grigine e poi va tanto il bianco seta, quindi il colore della seta, le sete pure, gli abiti molto fluidi, i doppi abiti, l'abito tipo questo, vedi, l'abito da togliere per poi proporre l'abito sott'ana sotto. E questa è la tendenza, diciamo. Che tipo di matrimonio sogni? Sogno un matrimonio abbastanza classico, che sia sempre abbinato comunque ai tempi di oggi, che non sia troppo avanzato, che non sia troppo decoroso, diciamo una cosa abbastanza semplice che comunque contenga molta classe. E l'abito bianco? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vieni con me Vieni con me Io resterò qui ferma finché Tu non vorrai stare con me I could put a little star dust in your eyes And put a little sunshine in your life Give me a little hope you feel the same And I wanna know Will I see you again Will I see you again La segna espositiva, hai trovato qualche spunto per il tuo matrimonio? Ebbè, diciamo che nel matrimonio ci si divide i compiti, allora c'è chi si occupa dell'aspetto organizzativo e chi si occupa invece dell'aspetto creativo, no? Io sono quello che mi occupa dell'aspetto organizzativo. Mi piacciono le partecipazioni, belle e colorate, perché sapete, quando uno viene invitato a un matrimonio è un po' come un invito a un funerale, purtroppo, perché deve pagare e li tocca. Allora, se la partecipazione è allegra, curiosa, uno lo riceve già meglio. La stessa cosa dicasi per la musica, se la musica è allegra, uno mangia tranquillo, passa una bella serata in armonia e non ci pensa magari a quello che gli è costato. Ma che tipo di matrimonio? Sogni o ti aspetti che la tua ragazza organizzi? Beh, sicuramente un matrimonio che non sia sopra le righe, un matrimonio che è come siamo noi, diciamo semplice, senza eccessi, ma fatto con gusto e magari con tanta bella allegria vissuta insieme agli amici. Un bilancio sull'edizione 2014 di Weekend Sposi? Senz'altro questa iniziativa è positiva, abbiamo avuto tanta affluenza, soprattutto da gente intenzionata a sposarsi che è venuta da fuori, che ha trovato in questi stupendi locali tutto ciò che serve per l'organizzazione del matrimonio, dalle fedi, dagli abiti da sposa, arredo mobili, un po' di tutto. Comunque il bilancio positivo è qualcosa che mancava per Castanita anche dopo la prima edizione che è stato un successo, ci siamo ripetuti in quest'ultima edizione. Quindi anche in tempo di crisi la gente si sposa? Sembra strano, stiamo vedendo una ripresa, speriamo una ripresa economica che possa dare a questi giovani la possibilità di sposarsi e fare i matrimoni come si facevano una volta, anche se si cerca di risparmiare un po' su tutto. Però noi stiamo qui per tentare e per stimolare gli sposi a visionare delle novità del tutto, quindi molto importante anche per le attività di Castanita che spongono in questa edizione. Vieni con me, vieni con me, io resterò qui ferma finché tu non vorrai. Che tipo di matrimonio sogni? Romantico, molto romantico. E l'abito come deve essere? Romantico, barbila per onzolo. Romantico, barbila per onzolo.